numero due devi intercettare quindi la gente è quello che la gente cerca online e se ti domandi come farlo la mia risposta è puntuale ed è sempre la stessa e cioè creando dei contenuti di valore pesanti dirai ma pesanti robini in che senso? ma guarda le caratteristiche sono semplici ci posso riscorrere dentro velocemente sono contenuti che sono di solito completamente gratuiti sono contenuti che forniscono informazioni approfondite su un tema, un argomento specifico sono contenuti che raccolgono organizzano informazioni risorse quindi non sono soltanto mie pensieri o teorie personali e sono anche per esempio tipicamente di facile immediata consultazione non come un blog dove avevo voglia per cercare e trovare quello che mi serve sai quanto tempo ci devo mettere inoltre non servono a vendere qualcosa i contenuti di valore pesante danno valore forniscono informazioni utili prima di preoccuparsi di cercare di vendere qualsiasi cosa rappresentano quindi di solito un vero interesse una passione della persona che li ha creati non sono un un metodo per fare i soldi e basta e quindi non hanno e non richiedono e non richiederanno dei capitali di investimento significativi per essere realizzati sta bene? cosa succede dopo? per fare i soldi per fare i soldi